Tiziana Anasi, dieci anni fa pensare di vedere un atleta disabile, paralimpico, in prima pagina sui quotidiani era veramente una cosa impensabile, una cosa difficile da immaginare anche. Siamo cambiati tanto, noi italiani, noi torinesi. Sì, certamente, un impulso grandissimo l'hanno dato le Paralimpiedi di Torino 2006. Adesso, quando i nostri atleti se lo meritano, possono andare in prima pagina. Io ricordo che ancora a Londra guardavo con un po' di invidia il grandissimo Alessandro Zanardi sulle prime pagine dei giornali a Londra. Anche Londra ha avuto un peso importante, ma per noi, per l'Italia, Torino sicuramente ha contato tantissimo, le cose stanno cambiando, ma quello che più conta è che più giovani, più ragazzi con disabilità, gravi o meno gravi, fanno finalmente sport e lo fanno seriamente, e lo fanno divertendosi, perché l'agonismo per noi è importantissimo, è il nostro punto d'arrivo, però bisogna divertirsi. Ed è magnifico il coinvolgimento dei tecnici normodotati, vedere giovani allenatori, vedere ski men, vedere le guide dei nostri atleti ciechi che gareggiano e ce la mettono veramente tutta come se fossero in Coppa del Mondo, ma lo sono in Coppa del Mondo, lo sono a tutti gli effetti. Quindi non solo impianti come eredità olimpica, ma anche una mentalità diversa. Sicuramente sì, barriere architettoniche, ma barriere culturali, e soprattutto, avendo visto tante belle immagini, penso che molti genitori si siano un po' rasserenati, un po' tranquillizzati, i genitori di ragazzini con disabilità, ed è sia più facile per loro portarli a fare sport, e questa è la cosa più importante, la cosa alla quale anche il nostro presidente Luca Pancalli tiene moltissimo. Siamo sicuramente un comitato italiano paralimpico e quindi dobbiamo badare i risultati che si faranno alle prossime paralimpiadi fra due anni per noi, quest'anno per gli sport estivi. Ma bisogna anche ricordarci che siamo una grande famiglia e il lato umano è altrettanto importante. Grazie.